Arrivata anche la fior di latte, guardate che meraviglia! Ciao ragazzi, stasera sono a Jesolo e vi faccio vedere la famosa pizza da Berton. Massa buona! Non si può non venire da Berton e non mangiare queste meravigliose patatine. Patatine fresche, rotonde, tagliate finemente. E fritte, buonissime! Ed ecco arrivata la mia marinara, guardate che meraviglia! Spettacolo! Ed è arrivata anche la fior di latte! Buonissima! Percezionale! Veramente buona, buona! Un pasto morbido, cotta alla perfezione, ma allo stesso tempo croccantino. Eccezionale! Eccezionale! Un'altra cosa da bere assolutamente è lo sgropino con il brancamenta. Assaggiamo lo sgropino. Buono! Cremoso! E con questo gusto proprio fresco del brancamenta. Veramente eccellente! È da provare assolutamente questa cosa! grappi! Cremoso! Cremoso! E vanno a fare acquiescari! E vanno a fare a tutte le storie fornitoli! Cremoso!